Sindaco, le disgrazie non arrivano mai sole, giustamente dalla pandemia si passa l'ennesima frana nel suo comune. Ci hanno segnalato la situazione che vedete proprio alle mie spalle, qui siamo un po' distanti quindi non si vede proprio benissimo, però è una situazione che ci preoccupa, abbiamo immediatamente allertato la protezione civile regionale, sta arrivando un geologo sul posto e cerchiamo sin da subito di monitorare questa situazione che ci preoccupa un po'. Adesso la macchina della protezione civile si sta ovviamente mettendo in moto, quali saranno poi le prossime azioni dell'amministrazione comunale? Da poco tempo che ce l'hanno segnalata quindi ci rimettiamo al parere dei tecnici, arriverà un geologo, farà il sopralluogo, segnalerà un attimo all'amministrazione comunale, alla protezione civile regionale la situazione e da lì in poi tutti gli atti necessari a seconda di quello che sarà comunque il parere che verrà rilasciato. Dalla frana passiamo un attimo alla pandemia, la vediamo con una mascherina nuova? Sì, abbiamo ottenuto proprio due giorni fa quasi 12.000 mascherine come amministrazione comunale, abbiamo subito provveduto a distribuirle sul territorio, è iniziata oggi con tutti i cittadini questa distribuzione, ringrazio tantissimo la Pentafert che è l'azienda che abbiamo sul territorio che è riuscita a reperire dalla Cina 5.000 mascherine, le altre 5.000 le abbiamo ordinate dalla prima azienda italiana veneta che le ha cominciate a produrre, questo lavoro lo abbiamo fatto già due settimane fa e oggi riusciamo a dare mascherine a tutti i nostri concittadini proprio in virtù di questo grande lavoro che siamo riusciti a fare nelle settimane precedenti.